Ciao a tutti! Io sono Asia e io sono Sofia e state guardando l'Asie Zuppi Show! Per un'occasione ci siamo messi questo bellissimo vestitino natalizio che metteremo se tanto oggi e il giorno di Natale. In questo video vi faremo vedere la nostra casa adobata di Natale e faremo la letterina. Quest'anno non abbiamo fatto non uno, non due, ma ben tre alberi! Inizieremo l'home tour partendo da questa bellissima e comodissima coperta che avvolge il nostro divano. Che ha questi cuoricini tipo biscottini, super carini, soprattutto questo qui, super bellissimi. E poi è comodissima. Quest'anno, come vi ho detto prima, abbiamo fatto tre alberi. E questo qua è più piccolino, più puccioso, più bello, con la stellina oro, che non è molto una stellina, è un fiocchettino. Questo qui è un rosso un po' più grande di quell'altro, con la stellina in alto rossa. Dentro abbiamo fatto tutto rosso e oro. E quello di fuori invece, di albero, l'abbiamo fatto tutto con i colori dell'Italia, ovvero verde, bianco e rosso. Come potete vedere, anche se dato che il giorno non si vede benissimo, abbiamo messo anche tutte le luci d'attorno, anche al dondolo. E abbiamo abbellito un po' anche fuori. Ma non usciamo a farvi vedere perché fa troppo freddo. In questo qui è il nostro contagiornio, poi qua ci sono tutte le fotomie di Asia e di Natale. Poi qua c'erano delle caramelle, ma non sappiamo dove sono andate a finire. Probabilmente nel tuo scomaco. Infatti! Poi abbiamo questo alberello, poi abbiamo questo lanetto, qui, poi abbiamo questo qui, e questa foto con il nostro cuginetto Leonardo. E qua noi due, e questo lupino. Una specie, sembra qui una volpe. Infatti. Adesso andiamo a fare la letterina a Babbo Natale! La letterina l'abbiamo già fatta per portarci avanti. E adesso andremo ad abbellire e la metteremo nella busta. Comunque, adesso vi diremo quello che abbiamo chiesto. Allora, LOL e Lil per 5, nel senso 5 Lil e 5 LOL. Poi la coperta dei Me Contro Te per Sofia. Poi il remix aereo 4 in 1 delle LOL. Quello nero perché contiene una LOL. Oh my God! Ok no, mi è nata c'era un maschio. Poi, zaino camera da letto non è una surprise. Sia per me sia per Sofia. Poi il castello Lego di Harry Potter. Sta muorendo! La Nintendo Switch. Il microfono karaoke wireless Bluetooth Rose Gold per Asia con le LED. E Sofia Fuxia con le LED. Poi Sofia vorrebbe il trolley rosa per il suo zaino. Il do con la tavola di Jumanji elettronico. Il libro dei Me Contro Te di Natale. Lo sciolet di montagna di Me Contro Te. Pista d'appazzinaggio dei Me Contro Te. E il tablet della clementoni per Sofia. Beh! Andiamo a fare la busta. Allora, la busta che useremo per imbucare la lettra sarà questa. Che abbiamo trovato in casa. E lo andremo ad abbellire con questi glitter rossi e fuzia. Vedremo ad incollare quella poi alla stick. E dietro la lettra ci sarà questo disegnino. E dietro il disegnino questo ci sarà anche questa stellina di Natale. Che dobbiamo finire di colorale. Poi metteremo, non so se lo metteremo sinceramente, questo nastrino argentato. e quest'altro rosso e d'oro. Ok, adesso Sofia aspettiamo che Sofia finisce di fare la stellina che la sta colorando. Ok, adesso io inizio ad abbellire la busta. Mentre Sofia finisce di colorare la scatola di Cinderella. Ok, bene. Ma Sofia non mi sembra finito un albero bianco. Colora l'albero. Metto un po' di colla nella letterina. Allora, Sofia che forma facciamo? In che senso? Facciamo una pallina tipo? No, fai un albero. E no perché non abbiamo i glitter verdi. Fai niente, lo fai in fantasia no? Ok, colla messa. E adesso andiamo a mettere i glitter. Cercando di non spuntare in giro. Spremi! Vai, puoi uscire! Io prendo in te. Ecco qua, abbiamo finito di abbellire la nostra pallina. Ma io non ho finito di colorare l'albero. Abbiamo glitterato. E adesso, mentre aspettiamo che Sofia finisce di colorare l'albero, che sta colorando con i penarelli glitter, fai vedere Sofì? Non si vede a vedere. E di solito i glitter di quei penarelli si vedono alla riuscita del sole. Allora, adesso andiamo a vedere se riusciamo, magari potremmo fare un cuoricino con i glitter rosa. Si sta lasciando un po' di glitter rossi, ma è bene, perché almeno vedo dove ho metto la colla, perché sennò che dopo mi fa dei buchi bianchi. Aspettiamo per vedere. Ok, non sto qua. E adesso andiamo a mettere un stellino giallino. Metterci tutti i glitter. Non sono finiti o si è bloccato? Facciamo una pallina. Ok, andiamo. Ok. Non c'è niente. Non si è niente. Non c'è niente, non c'è niente, vai. Non c'è niente, non c'è niente. Vai! Forza! Glitter rosa messi, e ecco qua. Nel passato. Come potete vedere è tutta glitterata. E adesso, appena Sofìa finisce di adobare il suo albero, tra le tene tre anni, Io l'ho già finito. Ok. Andiamo a mettere la letterina dentro. Il problema è che non ci sta. Quindi andiamo a piegarlo. Così? No, la pieghiamo così perché... E non la pieghiamo. Ok, allora. Inseriamo la letterina. Ma voglio inserire io. Si piega. Ha un problema. Questa lettera è troppo grande. O forse... Ho la lettera è troppo grande. Vediamo. Ok. Adesso andiamo a togliere l'adesivo e incolliamo. Ok. Adesso dobbiamo andare a me, a inserire... Il franco bollo! L'indirizzo di Babbo Natale. Ovvero Babbo Natale. Dove abita Babbo Natale? In Polo Nord, in Polo Sud. Non in Polo Sud, mi sembra che ci saranno i video. Per Babbo Natale. Tadà! La lettera Babbo Natale è pronta? Iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Attivate la campanellina, mettete il mi piace. E seguiteci per il prossimo video, che sarà un video in cui andremo ad invucare questa letterina. Ciao! Alla prossima!